Io credo assolutamente di sì. Una televisione tematica, una televisione che comunica valori, una televisione che è capace di corrispondere ai bisogni e agli interessi di una certa audience, certamente può diventare brand. Una televisione capace di interloquire con un target che sia particolarmente interessato all'argomento di cui lei è portatrice e che riesca a creare interattività però, siamo un po' sempre lì. Qualunque marca che non è in grado di entrare in relazione con il proprio stakeholder finisce per essere una marca un po' arida. Quindi credo sì che una televisione possa diventare un brand, anzi devo dire un brand molto interessante, molto divertente da gestire, molto complesso. Il talento di quella marca qual è, in che modo si esprime e quante opportunità ha per esprimersi. Un affascinante progetto devo dire. Grazie.